si possono dare le uova come cibo alle galline e se sì come? ciao a tutti io sono Andrea Mangoni e oggi vi mostrerò come dare le uova alle galline in maniera tale che non nascono problemi ma prima di tutto se vi piacciono gli argomenti che tratto lasciate un like al video iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche e ora andiamo a dare le uova alle galline l'uovo è un alimento ricchissimo ricco di vitamine di calcio di sali minerali si può dare alle galline qualche uovo sì ma entro certe condizioni prima di tutto dobbiamo evitare le uova crude del supermercato o in generale meglio evitare le uova crude perché perché l'uovo crudo può veicolare delle malattie e di conseguenza rischiamo di offrire un cibo molto appetibile ma che può far malare i nostri animali in particolar modo mai offrire uova crude che non provengano dal vostro stesso allevamento la cosa più semplice quindi è quella di offrirle cotte in particolar modo sode vediamo come darle per offrire le uova sode ai nostri polli io ho trovato che il modo più semplice è quello di grattugiarle non occorre una grattugia da cucina basta semplicemente avere un pezzo di rete sufficientemente robusta io utilizzerò questa che era la vecchia porticina del pollaio e che è fatta di una rete molto solida andiamo a vedere per offrire l'uovo basta semplicemente ammaccare la camera d'aria e cominciare a sfregolarlo con movimenti circolari sulla rete come vedete si sbriciola bene non deve essere perfettamente regolare per cui va benissimo anche se restano pezzettoni grossi il guscio viene lasciato in maniera tale che le galline possano usufruirne perché anche il guscio è una importantissima fonte di calcio per le nostre galline in generale comunque necessario rompere le uova per un motivo non vogliamo infatti che le nostre galline associano la forma dell'uovo all'uovo sodo quindi è l'uovo buono da mangiare altrimenti cominceranno a divorare le uova che si stessi producono quante volte dare le uova alla settimana alle galline agli animali giovani posso arrivare a darlo anche una volta al giorno agli animali adulti posso offrirlo invece una volta a settimana è un alimento estremamente gradito come abbiamo detto è un'ottima fonte di proteine e in generale soprattutto le galline che stanno deponendo le uova lo apprezzeranno molto il vecchio trucco degli allevatori una volta era quello di dare ai giovani sempre l'ovetto sodo quando ancora non esistevano mangimi molto proteici si faceva così e anche come primo cibo per i pulcini veniva spesso offerto l'uovo sodo finemente schiacciato con la forchetta a cosa importantissima le uova non devono essere condite non devono esserci olio o sale perché il sale per esempio è un veleno per i polli quindi evitiamo di darlo lo offriamo così crude ed ora buon appetito alle nostre cocche ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.